TORNA NEL PICCOLO BORGO DI OLIVETO NEL COMUNE DI CIVITELLA IN VALDICHIANA IL PRESEPE VIVENTE Momenti di vita quotidiane ed antichi mestieri per ricreare così un'atmosfera unica con i personaggi del presepe nel borgo medievale ad organizzare la rappresentazione della natività la parrocchia di Santa Andrea per il quarto anno consecutivo Il prossimo appuntamento con il presepe vivente di Oliveto è per sabato 23 dicembre sarà l'ultima occasione per quest'anno di immergersi nell'atmosfera unica ricreata nel borgo della Val di Chiana